Incontro positivo a Palazzo Raffaello. Dopo quasi cinque mesi di chiusura causata dall'emergenza sanitaria, il centro Margherita riaprirà tra poche settimane. E' quanto deciso oggi nella sede della regione a Dancuna, dove si sono incontrati il presidente Luca Ceriscioli, il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Minardi, la dirigente sanitaria della regione, il direttore del distretto Nardella, il sindaco di Fannoserico, l'assessore Tinti, ma anche i rappresentanti di Asur, Cooperativa Labyrintho e Aima Fano, oltre a una delegazione dei familiari che nei mesi scorsi ha chiesto a gran voce la riapertura del centro di eccellenza regionale. Devo ringraziare il presidente che è stato anche determinato. Da domani anche il direttore del distretto che era presente si è preso l'onere di riconvocare il tavolo per definire anche le misure che tengono conto dei protocolli. L'altro elemento importante è che sia chiaro che un euro andrà a pesare sulle famiglie di coloro che sono ospitati. Quindi adesso ci riaggiorneremo a brevissimo, da domani subito al lavoro per riaprire la struttura. E' stato un bel passo in avanti, ha poi commentato il dottor Maglio Pierboni che nei mesi scorsi, insieme ad altri familiari, ci aveva raccontato le enormi difficoltà che stanno affrontando coloro che assistono giorno e notte i propri cari malati di Alzheimer o altre demenze. Questa riunione ha trovato persone estremamente favorevoli a questa riapertura, che si parla a dire la verità anche subito dopo il mezz'agosto. Si dice, chiaramente adesso devono sistemare alcune cose burocratiche. Ma io dico sinceramente che ci sono state anche secondo me delle incomprensioni. perché uno a uno, una tre, una cinque, insomma. Poi dopo si vedrà, si organizzerà anche attraverso la gente che la frequenta, chi vuol stare la mattina, chi vuol stare la sera, chi vuol stare tutti i giorni. Onestamente è stato un colloquio molto, ho visto un presidente molto, molto, molto attento e mi è soddisfatto. Schiaroli, lei non chiedeva soltanto la riapertura del centro ma anche una struttura residenziale. È stato ascoltato? Noi abbiamo fatto presente le problematiche di tantissimi fanesi, perché voglio dire ormai i casi di malati di Alzheimer superano le mille unità e quindi di conseguenza anche tutte le famiglie intorno. C'è l'esigenza non solo di un'assistenza diurna, ma anche proseguirla anche con un centro residenziale, quindi per tutta la giornata, non perché uno vuole lasciare i propri cari, ma perché a un certo punto non se la può fare più da soli. E su questo mi pare che ci sia stata una certa sensibilità. L'importante è che arrivi un investitore, un progetto. Ci vuole un progetto perché questa struttura possa partire, possa partire proprio qui al centro Margherita. In attesa che si possa realizzare una struttura nella quale accogliere 24 ore su 24 i malati di Alzheimer, nei prossimi giorni verranno definiti i dettagli per la riapertura del Margherita, quindi anche quante persone potranno tornare nuovamente nella struttura nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Lucia, dopo le vostre testimonianze e anche le vostre proteste, oggi siete stati ascoltati. Avete intanto ricevuto la bella notizia che le rette non verranno aumentate. Sì, questo ce l'hanno confermato. Le rette non verranno aumentate, anche perché adesso giustamente abbiamo raccolto dei fondi, servono per la riapertura e ci hanno garantito che rimarranno immutate. Per quanto riguarda le spese di igienizzazione, anche questa convenzione viene concessa, quindi non ci saranno ulteriori spese per tenere gli ambienti sanificati. Però hanno tenuto anche in considerazione che questa è una struttura di 1200 metri quadrati e quindi si può anche consentire di riaprire con un rapporto di 1 a 5. Un'altra richiesta è arrivata invece da Maria Arguto, responsabile del gruppo operativo AIMAFANO, ovvero l'Associazione Italiana Malattie di Alzheimer. Io ho fatto una richiesta di unire tutto il distretto 6 e fare in modo da dare un sostegno di tipo diverso a questa struttura, nel senso che non è che possono intervenire soltanto nel momento di urgenza. Questa è una struttura che è sul territorio fanese, dà un servizio principalmente alla città di Fano e al suo distretto 6, e quindi è importante che tutti i sindaci che fanno parte dell'ambito diano il loro supporto e siano presenti.